Per questo San Valentino una cena brillante Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Pensavate vi lasciassi senza un altro video per San Valentino? Già mai! Questa volta però ho voluto fare qualcosa di più Girovagavo la volta scorsa per Pinterest E ho visto tra le idee DIY per San Valentino Una lanternina molto molto carina Che è quella che faremo oggi Però semplificata veramente veramente troppo E ho pensato se questa la fa qualcuno Va per fare una cosa semplice E si ritrova impelagato in 2000 problemi da risolvere E sicuramente butterà via tutto Quasi sicuramente E allora sapete che ho fatto? Ho preso un'idea se apparentemente semplice E vi ho mostrato come effettivamente farla Oggi faremo infatti una lanterna con un barattolo di Nutella Semplicissima a vedersi Ma vedrete che nel corso della fabbricazione Avrete bisogno di piccoli accorgimenti da seguire Che non inficeranno il vostro lavoro Perché anche se sono materiali poveri Anche se sono materiali da riciclo È sempre un peccato buttarli via Ora mi tappo questa boccaccia Ci spostiamo sul tavolo da lavoro E andiamo a vedere come creare la nostra lanterna romantica E glitterosa per San Valentino Ed eccoci pronti per creare la nostra lampada La nostra lanterna d'atmosfera Per la nostra romanticissima cena di San Valentino Fatta con gli stessi elementi Con cui magari abbiamo preparato la cena Quindi un barattolo di qualcosa che abbiamo usato Magari qualcosa alla Nutella Ed ecco qui un bel barattolone di Nutella Che si presta proprio benissimo al caso nostro Perché ha l'imboccatura molto grande Insieme al barattolo di Nutella Ci occorrerà della carta forno O della carta pergamena Per i più rifiniti Forbici e scotch carta Un pennello Una matita Un nastrino che si accordi col colore In cui vogliamo fare la nostra lanterna Io la farò rossa Quindi il nastrino lo prenderò rosso Ci occorrerà anche un cartoncino Di qualunque colore Per fare la sagoma dei nostri cuori Del glitter del colore Di cui vogliamo far rilucere la nostra lanterna Io lo scelgo rosso E dell'acrilico Sempre dello stesso colore Rosso come il glitter Che andiamo ad accordare Vinavil Delle lucine Io qui ho queste lucine Ikea A forma di cuore Ma è solo un caso che siano a forma di cuore Possono essere anche solo bianche E può essere anche soltanto il lumine elettrico L'importante è che tutto l'ambaradan Entri all'interno della boccia Pezze Bicchiere con dell'acqua E piattino Per mettere il colore E infatti Cominciamo subito Come prima cosa Prendo due pezzi di scotch E li affianco Applicati le prime due strisce di scotch Ne applico altre due Applicarle su un piano da lavoro Farà sì che lo scotch Perderà potere adesivo Quindi fatelo Fatelo su una base da taglio O su un qualunque piano da lavoro Vedete? E accavallatele per almeno un centimetro Quindi prendete il cartoncino Di cui vi avevo detto prima Piegatelo in doppio E fatevi una bella sagoma A forma di cuore Ok E ritagliatela Vediamo Perfetto Adesso Lo pongo sul mio scotch E ricalco la sagoma In entrambe Le strisce di scotch Voilà A questo punto Con le forbici O con un tagliabalza Ritagliate i vostri cuoricini Prendiamo la nostra boccia E collochiamo il primo cuore Al centro Così Facciamo la stessa cosa Anche dall'altra parte Ok Adesso che i cuori sono sovrapposti Su entrambi i lati Dipingiamo tutto il barattolo Di rosso Con l'acrilico Quindi prendo l'acrilico Dopo aver sgrassato bene il barattolo Il che significa Averlo pulito bene Comincio a pitturare Vi faccio vedere come pitturare Perché vi sto facendo vedere questo video Non tanto per la originalità Di questo manufatto Che è visto e stravisto Ma proprio perché Come di solito è portato avanti Tramite foto Voglio farvi vedere Invece poi all'atto pratico Come dovete mettere il colore Senza incorrere in sbavature Quindi dall'interno dello scotch Verso l'esterno Così E poi Un passaggio attorno Così Ma mai Verso l'interno Perché sennò potrebbe insinuarsi Sotto lo scotch Un po' Di colore Quindi adesso Qui dove non c'è nulla Dipingiamo liberamente E facciamo anche L'altra parte Quindi dall'interno Verso l'esterno E lateralmente Ok E adesso Facciamo asciugare Data la prima mano di colore Naturalmente Per sfilarlo Prendetelo Dai cuori Così Possiamo accingerci A dare La seconda mano di colore Che sarà La mano più coprente Ok Asciughiamo Anche la seconda mano di colore A questo punto Prendiamo La vinavil Dopo che La boccia È quasi del tutto asciutta E stendiamo Su tutto Una mano Copiosa di vinavil Proprio si deve vedere Il vinavil Una copiosa Mano di vinavil Che si mescolerà Col colore Ma non vi preoccupate Perché non succede Assolutamente Nulla Anzi Io non do La base sotto E la base sotto La lascio soltanto Colorata Mettetevi Su una base Io qui ho una teglia Che uso Per cuocere i lavoretti Su cui sarà facile Poi raccogliere Raccattare il glitter E cominciate A versare Il vostro glitter E a pressare Il vostro glitter Allora Anche qui State attenti Proprio a ricoprire Tutto Il barattolo Infariniamo Bene il tutto E lasciamo asciugare Qualche minuto Adesso Adesso Non pensate Minimamente Di prendere E strappare Via il cuore Perché se no Vi si porterà via Tutta la pellicola Pittorica Che si è formata E tutta la pellicola Plastica Che si è formata Tra il cuore E la carta E lo scotch Mentre con un bisturi Con un tagliabalza Ripassate Come a tagliare Appunto Quel legame Su tutto Il margine Dello scotch Carta Che voi in video Qui da me Non vedete Ma che guardate Risulta molto evidente Invece per quanto Mi riguarda Quindi per me Seguire la traccia È molto molto Semplice Perché vedo Proprio il bordino Della mia carta Quindi solo dopo Aver ritagliato Togliete Queste sono cose Che magari In foto Non si percepiscono Quando vedete Un pin Però È bene sapere E piano piano Togliete via Il cuore E poi Ripulite I margini Sempre con la punta Del vostro cutter O del vostro bisturi Perché un po' Di colla Magari si saranno Sporcati Molto più semplice Una volta asciutto Completamente Potete anche pulire I margini Con un cotonfioc E un po' Di solvente Per unghie Verrà pulitissimo Attenti che non ci sia acetone Perché sennò Potrebbe opacizzarsi In quel caso Dopo Sempre col batuffolo E un pochettino Di acqua e sapone Adesso Lasciamo asciugare Il tutto Perfettamente Quindi vi faccio vedere Come pulire L'interno Della boccia Con Un tovagliolino Di carta Umido Passiamo All'interno Della nostra JAR Per ripulire Di tutto Il glitter Che si è depositato Sulla faccetta Dei cuori Voilà E anche Dall'altra parte E due Guardate quanto glitter E poi Con Un Tovagliolo Di carta Invece Asciutto Togliamo Togliamo proprio Gli ultimi Residui Allo stesso modo Ripulisco L'esterno Prendiamo Un pennello E Spolveriamo Il glitter Dal nostro cuore Sia Sull'esterno Che Sull'interno Voilà A questo punto Dobbiamo andare Avanti Con il nostro Lavoro Prendiamo Dei quadrotti Di carta Forno Ed Inseriamoli All'interno Della nostra JAR Uno Da una parte E uno Dall'altra Possiamo Anche Fissarli Con un puntino Di colla Io Non lo farò Perché preferisco Avere la JAR Sempre libera E facile Da pulire All'interno Perfetto La JAR È quasi finita Guardate Che bello Il contrasto Con La carta All'interno Adesso Prendi il nastrino Perché sono Gli ultimi Tocchi Di abbellimento Lo giro Intorno Poggio la JAR Così vi faccio Vedere E faccio Un romantico Fiocchettino E poi Taglio l'eccesso Dando Dando un andamento Voilà A coda di londine Carina Vero Infilo All'interno Le mie luci Ben Sistemate Fatelo Anche se avete Quelle bianche Fissatele Bene In modo Che non vadano In giro E non si muovano Inseritele All'interno Della vostra Giarina Così Con l'interruttore Verso l'alto E All'occorrenza Tac Ed ecco qui La nostra JAR A lume Di candela Guardate Che carina Un amore Deliziosa Per rendere Sognante Ogni San Valentino Ora così Vedete veramente poco Vi lascio alle foto E ve la faccio Osservare In ogni minimo Particolare A dopo E buon San Valentino A tutti Visto che bello Un barattolo di Nutella Può essere molto di più E già tanto di per sé Ma con un po' di glitter Un nastrino E qualche lucina dentro Vedete cosa diventa Veramente bellissimo Capirete bene Che tutto quello Che vi ho fatto vedere Nei pin È molto semplificato Fanno vedere La posizione Dello scotch Fanno vedere Il passaggio del colore Fanno vedere Il distacco Dello scotch E il gioco è fatto Secondo loro Secondo le foto Ma in realtà Nella realtà Appunto Ci sono tanti piccoli Accorgimenti Che dovrete seguire Affinché il vostro lavoro Vi riesca A questo serve il video Di oggi Non a darvi un'idea originale Perché questa Non lo è Ma a spiegarvi Come rendere Un'idea carina E facilmente Fattibile Non una perdita Di tempo E un lavoro Riuscito Spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Glitteratemi un bel pollice In su Tutto bello Illuminato Mi raccomando E soprattutto Condividete questo video Sulle vostre pagine Facebook Vi aspetto anche Sui miei altri canali Ombretta E due cuori Una k E naturalmente Vi aspetto Sempre qui Per il prossimo video Buon San Valentino A tutti Da ombretta Ed arte Per te È tutto Ci vediamo La prossima volta Ciao Buon San Valentino Ciao